musica 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 ben ragazzi come su cui ben ritrovati nel mio canale sono qui signori come vedrete siamo con Ron bella rega il mio amico ormai ogni video che faccio c'è sempre Ron's, Drogocorse, Rainbow adesso siamo su Clash ovunque vai io ci sarò è un canale di coppie ormai oggi faremo come avete visto ultimamente Clash Royale ha fatto un aggiornamento che durerà semplicemente weekend almeno questo weekend terminerà fra 13 ore volevamo farlo in Melagodohouse il problema è che siccome Melagodohouse fra 13 ore ci saremo ma non saremo in grado di registrare abbiamo deciso di fare così tanto alla fine è uguale ragazzi stessa cosa faremo il 2 contro 2 faremo 3 partite sperando di vincere per la prima volta io e te siamo in squadra insieme mi sembra che sia giusto così dai abbiamo fatto 3 video dopo la sofferenza delle altre volte almeno oggi cooperiamo esattamente quindi Bomber tu dimmi quando sei pronto sono stra prontissimo zio mai stato così pronto in vita mia ok 20.000 like signori se volete vedere un altro video con me e Ron e magari facendo se ci si potrà essere impossibile stavo dicendo una cazzata contro altre due persone che conosciamo ma è impossibile magari si potesse fare allora partiamo signori faccio io battaglia fra Cannes preparati a partecipare Bomber ci sono il problema è che non ho l'audio del gioco quindi io si io ho audio e tutto io sono carichissimo è perchè tu sei attaccato a legato esatto sono tutto attaccato a legato allora zio c'è un deck della moda mi sono creato di farlo vedere vediamo con cosa partono loro guarda io parto subito in attacco guarda preparati a difendere con scariche elettriche e tutto eh vado 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 ok bella la bomba bella 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 mi ha fatto già un fracco di danno adesso lì ho ciò che hanno la Valkyrie più che altro perchè si 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 sono già morti zio sono già morti tranquillo vediamo che attacchino che abbiamo fatto bombe eh ma occhio che ci hanno tutti i barbari scelti infiniti io c'ho la scheletro volendo non so se ci hanno la scarica quella che comunque li rallenta si li rallenta più che altro va benissimo dai eh c'è quel cazzo di boia che oh basta non ti preoccupare boia non fa niente zio guarda mo fa così e va giù diamoci tempo di ricaricare adesso ricarichiamo un attimo un piccolo vantaggio noi allora ricordati sempre zio che loro hanno usato lo stregone di fuoco e soprattutto non hanno edifici zio vado io vado io vado io vado io vado io vado io ok bello con la chiamarsela così è la prima volta che chiamarsela eh zio eh vado con il gigante royal mettimi qualcosa dietro si eh aspetta che vedo se ho la scarica ok scarica io bravo e fuoco io qua va bene va bene facciamo così attacca tu adesso ok io adesso difendo metterà sicuramente difendiamo difendiamo oh 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 no no tranquillo tranquillo ok fermiamoli così bomber buona buona difesa buona difesa buona difesa furia no ho scazzato tantissimo a chi cazzo l'hai messo la furia zio? io ho scazzato tanti pensavo fossero sopravvissuti so proprio un pirla va bene dai va bene abbiamo perso solo due con la furia Ricarichiamoci un attimo C'ho anch'io il gigante royale Ricordatelo Allora Mettimi giù il gigante Giù il gigante Prepara la scarica Anzi preparo io la scarica Io vado così Scarica fatta Ottimo Dai dagli una botta Vabbè c'ho il golem di ghiaccio Ok mettete il golem Io do una botta a questi A tutti quanti Ottimo Possiamo fare gli danni diretti Se mancano 24 secondi Cerca di farmare la La scarica Ok Dai quanto ci mette Entra una certa zio Ok danni diretti alla torre Io ho anche la fuoco Ok bravissimo Vai 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 4 3 2 1 È stato un piacere Mamma mia Bomba Dai bomba Bella un tot Grande bomberissimo Bella un tot La prima andata La primissima andata Adesso vi faccio vedere il deck che avevo io E io Gli altri deck Gli altri deck li so usicchiare Non così agevolmente Allora Io diciamo che c'ho i deck molto simili Infatti non va bene questo Adesso dovrei fare Adesso mi faccio un deck velocissimo Arrivo arrivo Allora facciamo questa con il mio secondo deck Allora E poi dopo la terza vediamo Ok pronto Vai Allora io qua c'ho il razone Bello sto deck Qua è stato un blind deck proprio Mi ha detto fatene uno te E poi collaboriamo un po' di più Parliamo un po' di più zio qua eh Io ci provo zio Allora hai visto che io c'ho l'infernale C'ho i barbari C'ho il golem di ghiaccio Allora io faccio subito così Ah no Devi chiamarmele zio Ok Come le chiami o mi metti davanti il cosino Perché se no Ok Provo con la sfera infuocata A vedere se riesco a fare qualcosa qua Oh quanta roba Bravo bravo Buono buono Bello 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 questa cosa qua Aspetta che io li Eh la madonna Quanta roba stanno tirando questi Ok Aspetta che li ho fatti Li ho fermati parecchio eh Sì ma Ok 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 siamo fermati Ok Ricarichiamoci un secondo Vediamo con cosa ci fermano Aspetta prendi un po' di elisir zio Sì Il principe lì non resiste Non serviva una tronco per tre scheletrini Non serviva una tronco Per niente Anche perché poi ci controvertono loro No vabbè il nostro Il nostro Moschettiere ha fatto il macello Raga Ok Moschettiere Eh blocco io Blocco io Vai Però quella puttana Deve andare giù Del moschettiere Adesso siamo un po' più coperti Che abbiamo l'infernale Coprimi con qualcosa dietro Se si riesce Eh no Ti copro con la sfera infuocata Unica Eh non ci arriviamo neanche Perché c'è anche il pack Allora adesso Vecchio Prima di giocare delle carte Dovremmo piazzarle qua Per farcele vedere Guarda sto per Ma che se la metti sul campo Io la vedo eh zio Sì sì lo so Lo so Sai adesso cosa faccio zio Vuoi che vada ad attaccare La torre di destra Secondo te Ah cazzo Aspetta aspetta un attimo Zio Mettigli il golem di ghiaccio Dio santo Aspetta Tronco Doppia tronco Non so perché Va bene va bene Va bene Prendiamo un brano Vado ad attaccare Appena mettono la truppa di là Tu pensa a difendere Io vado ad attaccare da destra Anche ci provo Anche se quelli attaccano in due Ok sicuramente ci sarà Dai che gli stai facendo danno Io ho giocato veramente mare Quelle carte lì No gli hai fatto un botto di danno Però gli ho fatto un botto di danno Però potevo giocarmene Molto molto meglio zio Molto molto meglio Sì ma sai cos'è la cosa Hai danno diretto te no? Sì Potremmo Difendiamo a sinistra E poi io ho anche il missile C'ho il raggio Da buttare a destra Se tu Tornadino Ce l'hai? Sì Buttala adesso Che La buttiamo adesso Che ci salviamo un secondo La tornadina è molto interessante Molto bella Un botto Allora zio Danno Diretto Io faccio 500 500 Buttagli Buttagli Qua Aspetta Aspetta Sì 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 Li butto qua Vai Prova così Prova così Mancano 52 Per un cazzo Per un cazzo Ole Holy shit Che match Bello Abbiamo provato Allora abbiamo provato Diciamo tanti deck Nel corso di questo video Fateli sul telefono Solo che facendo tipo il deck Come dire Io metto questo Tu metti quello Abbiamo sempre perso Qua invece che abbiamo detto Con il deck a casa Andiamo a usare Sì A fiducia siamo migliori Esatto Sì sì Siamo decisamente meglio Poi facciamo l'ultima Uh Allora Occio eh Allora io vecchio C'ho il gigante royal Come puoi vedere Ah che palle Ste Ste Però sai che io lo userai Verso la fine Il gigante royal Vai Prendi almeno la valchiria Bella Quella cartina lì zio E Occio che c'hanno Eh gli stregoni Sono delle best Comunque adesso Difendo un pochino qua Occio dietro Bravo Bravo col pecca Cazzo il cannone Proprio adesso Dove andare via il cannone Bastardo C'ho io la scarica Vai vai Butta Butta Bravo Bella combo Allora Ma a me questa Questa stronza Non mi piace Quindi la mandiamo via Così Non serve Non serve Non serve Non serve Sì 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 Attacco a destra Siamo pari eh Siamo a pari adesso Siamo la scarica La scarica No Allora il gominga Ah vabbè 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 Li faccio andare via Un attimo così Ma facciamo così Visto che io c'ho il domatore Che devo attaccare Anch'io c'ho il domatore zio Ah ok La scarica mi serve Dopo Per i dischi elettrini Dai anche qua La reggiamo La reggiamo La reggiamo Va giù Quel gigante lì Sì 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 Va giù tranquillamente Ehm Vuoi il domatore Vai con il domatore se vuoi No vado Vado col pecca Guarda Sei pazzo Eh no Non so se serve No no Non la uso la scarica qua Sarebbe stata una carta sprecata Mi difendo col moschettiere di qua Ocio di qua zio Facciamo così Ottimo Potevi mandarli sulla torre lì In domatore Eh dopo Per tirare il minatore dietro Io lo mando sulla torre Allora io attacco così adesso Ok allora io ti copro così Guarda Bravo Ah Bella questa hit Mi è piaciuta Buona buona una hit Tiro giù io con la tronco Sì vai La principessa Eh di qua occio Ocio 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 giù Brutta Brutta Questa cosa Adesso Attacco col dormatore Eh Vi c'è anche la scarica Eh scaricate Sulla Sull'inferno Anche un po' di quei pisellini lì Va che attacco dall'altra Va che attacco dall'altra Un pelota Che ce la facciamo Da linko di danno Ok Quelli non dovrebbero essere un problema No Non serve Metterli No Fine di che serve Perché in due Due colpi Con la torre Quando ritiro giù La principessa Bravo Ah cazzo Non ho preso Lo stronzo Due domatori Con anche la scarica Scaricali Dai scaricate Porco Perché c'era la tua scarica Da 20 minuti Perché aspettavo Che mettesse i discheletrini Ma Nada Non serviva Non serviva lì È combattutissima Tiratissima Fino alla morte Bisogna attaccare Con la roba diretta Ce l'hai? Ce l'ho Ce l'ho Ce l'ho Ce l'ho Ce l'ho Tira una bella bomba Ottimo È la sorpresa del razzo Surprise La sorpresa del razzo Holy shit Oh damn Che colpo di J-Round 7 Signori Damn Non l'avevo mai usato Tutta questa poeta Tutta la parte Vedi A giocare a cazzo di cane Funziona sempre di più Con l'idea cazzo di cane Veramente Dat razzo Saluto tutti Dat razzo Il razzo salva il culo Esatto Siamo in 47 su 50 Ho lasciato un po' Clash real ragazzi Ultimamente Però ho fatto Da quando ho messo Non il 2 contro 2 Ma quando proprio Ho fatto l'aggiornamento Del compleanno Ci sono tornato Mi sta piacendo veramente Che razzo croccante Comunque Un croccante È stato un razzo croccante Quello Signori Io vi ringrazio Grazie mille tutti per il supporto Fatemi sapere con un bel like Se vorreste vedere un altro 2 contro 2 Appena li metteranno di nuovo Con J-Round Magari ci organizziamo in Merakoto House Qui da Capuris Squad È tutto Bella raga Ciao